buongiorno a tutti oggi parleremo del dioniso e ampelo di pierino da vinci questo gruppo scultore rappresenta dioniso in compagnia di un giovane che molto probabilmente è ampelo ovvero colui che seconda tradizione era il giovine amato dal dio e che venne trasformato dal dio stesso in vite dopo una morte prematura già a partire dal 1587 sappiamo che questo gruppo scultoreo era posizionato all'interno della galleria degli uffizi ebbe un notevole successo nel settecento tanto che venne attribuito per la sua bellezza allo stesso michelangelo la scultura è costruita intorno ad un reperto antico che era un busto maschile per l'appunto a cefalo e senza braccia con le gambe fino alle ginocchia cui pierino da vinci decise di aggiungere i particolari come lo vediamo oggi fu quindi un'idea di pierino da vinci quella di costruire il dioniso dal momento che il gruppo non aveva nessuna possibilità di identificazione almeno all'inizio questo gruppo venne concepito come fontana e possiamo dire ciò perché all'interno del vaso su cui è seduto ampelo si trova un foro che avrebbe dovuto contenere un tubo in metallo all'interno del quale sarebbe dovuta passare dell'acqua che poi sarebbe caduta fontana diciamo così dalla testa dalla maschera che si trova alla fine della del vaso stesso ma probabilmente questa funzione non lebbe mai questo gruppo scultore dal momento che non vi sono sedimentazioni oppure tracce di tubi metallici che sicuramente sarebbero rimaste sul gruppo stesso va aggiunto inoltre che molto probabilmente questa fontana doveva essere ammirata a 360 gradi dal momento che le rifiniture di tutti i lati della scultura stessa sono contraddistinte da una finezza che è fatta proprio per essere ammirata nel corso dei secoli sono stati fatti diversi nomi su chi fosse l'autore del restauro di quest'opera anche perché vi è un enorme discrepanza tra la rifinitura della testa di dioniso e la costruzione stessa della della figura di ampelo infatti la testa di dioniso risulta essere lavorata soprattutto per quello che riguarda gli occhi e la capigliatura in maniera molto più sommare quasi a voler denotare un abuso del trapano soprattutto nello scavare le rifiniture per quello invece che riguarda la figura di ampelo è possibile anche denotare un certo ricordo di tipo michelangelesco che fa pensare per l'appunto ad una mano come quella di pierino da vinci molto più leggera che ha dato anche a questa a questa figura di adolescente nei tratti molto più femminei e molto più acerbi anche perché pierino da vinci aveva già avuto almeno a quanto diceva sari delle esperienze di restauratore nel suo viaggio a roma nonostante poi questa attività fosse considerata un'attività totalmente secondaria anche a quella dello scultore interessante è vedere lo sguardo tra i due che sembra quasi denotare il rapporto tra un allievo e un maestro in cui dioniso sembra dire ad ampelo quale sia la necessità e soprattutto l'utilità del vino e dell'ebbrezza soprattutto nei rapporti amorosi io vi ringrazio e alla prossima puntata oda ciao 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 ciao